Carissimi amici di Povadis, oltre lo spazio e oltre il tempo, mi viene in mente oggi la frase di Luigi Pirandello, quando disse imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. E in effetti, parlando proprio di falsità, oggi affronteremo un tema dedicato, la storia di un falso d'autore, il cosiddetto vaso o credere di Elvronio. Ai tempi in cui Cervetteri era l'antica cittastato etrusca Kaisera, qualcuno di importante passò a miglior vita, come purtroppo accade a noi umani, e venne sepolto in una tomba della necropoli di tale città, nell'attuale zona detta di Greppe Sant'Angelo, necropoli che ricoprono estensione che è vastissima di circa 8 etteri, sì da poco distante dal centro abitato dell'attuale Cervetteri e a 40 km circa da Roma. Fu proprio lì, infatti, che intorno al 1971 i tombaroli rinvennero il famoso vaso detto di Eufronio, o cratere di Eufronio. Tale manufatto fu venduto da due mercanti d'arte, uno italiano e l'altro americano, al Metropolitan Museum of Art di New York per un milione di dollari, una cifra ingente per l'epoca. Ma dopo un contenzioso durato svariati anni, cioè fino al 2008, finalmente a reperto tornò in Italia, anzi a casa, poiché è esposto nel Museo Nazionale di Cervetteri. Perfettamente integro, presenta la firma del suo esecutore, il ceramista Eufronio di Atene, operante a cavallo tra il VI e il V secolo a.C. Chi fu costrui? Iofronio fu uno dei più stimati ceramografi e ceramisti e specializzato nella tecnica delle figure rosse. Questo famoso artista ci ha lasciato una trentina di opere, sempre che siano vere, che Ruffesso firmava in qualità di ceramista, lasciando poi il compito della decorazione e della pittura almeno in tarda età, e questo a causa di un abbassamento della vista ad altri. Quindi il pittore Onesimos, in particolari casi, era il suo preferito, il pittore preferito, quello a cui venivano affidati i vasi più pregevoli da decorare con la tecnica delle figure rosse. Chiamarlo vaso è riduttivo, poiché si tratta, in effetti, di un cratere a calice, e anche la denominazione non è corretta, poiché viene attualmente esposto nel museo con il nome cratere di Sarpedonte, per via della scena mitologica raffigurata sul vaso. È anche scorretto definirlo vaso etrusco, poiché venivano realizzati in Grecia o sul suolo italico, però da artisti e ceramisti itineranti, provenienti dalla Grecia. All'epoca faceva molto chic possedere tali oggetti greci ed esporli nelle proprie sale da pranzo. Certo, si potevano anche usare vasi più semplici e di manifattura italica, locale, ma immaginate la differenza che può fare oggi, in casa nostra, esporre, per esempio, nelle nostre case, una cucina con il marchio Scavolini o una acquistata da Mondo Convenienza. All'epoca era lo stesso. Si era vittime dell'offentazione più sfrenata. Torniamo al vaso di Sarpedonte. Abbiamo detto che ha una forma calice, come possiamo vedere dalle foto, e anche se dalla foto non si evince, era abbastanza grande perché poteva contenere ben 45 litri di vino di lettare degli dèi ed era destinato alle occasioni speciali, ai grandi simposi, con tanti invitati. Poi dal calice si attengeva il vino e che si riversava nelle coppe. Poi si mangiava, si beveva, si trombava, si faceva l'amore. Ragazzi, questo vaso è fermato, ed è questa la cosa straordinaria. Oggi la firma, o un marca su un qualsiasi oggetto di tendenza, ci fa comprendere lo status sociale del proprietario. E al tempo degli etruschi i vasi greci erano più importanti in Italia che in Grecia, pensate, divenero oggetto di lusso. Anche a quei tempi la Grecia non se la passava bene e gli artisti si trasferivano dove il lusso era più ricercato, in Etruria. Le firme apposte sul vaso ci informano che Eufronio lo realizzò nella bottega del famoso ceramiste Euxiteos, così c'è scritto, sul vaso. Poi c'è un'iscrizione aggiuntiva, come se fosse una nota in calce, molto bizzarra, effettivamente. La scritta dice in greco Leagro è bello. Leagro è bello. Scritta che ci informa su chi fosse l'uomo più bello della Grecia a quei tempi, cioè nel V secolo a.C. scritto. E qui bisognerebbe aprire un discorso, una parentesi, e non basterebbe, sull'etica sessuale degli antichi, ma basti sapere che era molto diversa dalla nostra, per una ragione tanto semplice. Gli antichi greci, come gli etruschi e i romani, erano pagani. Per questa persona è per loro la bipartizione fondamentale tra comportamenti sessuali non era etero e omosessualità, era attività o passività. Punto. L'uomo doveva esercitare questa attività, essere attivo in tutti i campi, dal lavoro alla guerra, nella politica e nel sesso. Cioè, doveva, espressamente, sottomettere. Poteva quindi avere rapporti sessuali, sia con donne che con uomini, indiffintamente, senza nessun problema, ma solo se questi ultimi, i maschi, erano giovani e non ancora considerati uomini. Poi da venti anni in poi cambiava tutto. Si era considerati veri uomini e destinati a una vita familiare, tra virgolette regolare, uomo-donna. E dicevano quindi i greci che Leagro è bello, è bello Leagro, ma chi è? Ma chi era costui tanto da catturare l'attenzione perfino all'estero e a prodare come fama in Etruria, così distante dalla Grecia. Leagro era un figo, era un giovane militare atenese, probabilmente molto, ma molto bello. Per riportare il suo nome su un vaso prestigioso vuol dire che questo ragazzo era vero bellissimo, secondo i canoni dell'epoca, una sorta, non lo so, forse di Brad Pitt, Raoul Bova dell'antichità. La scena riprodotta sul vaso ci conduce al momento saliente della morte di Sarpedonte, altro personaggio dal nome strano. Storia che poi troviamo dettagliata, raccontata nel XVI libro dell'Iliade, dove il re dei Lici, alleato dei Troiani, Sarpedonte appunto, era un semidio, uno dei tanti figli che Zeus aveva avuto da una mortale, poi morto in combattimento. Per evitare che gli Achei deturpassero o prendessero, rapissero il corpo senza vita di Sarpedonte, Zeus, suo padre, il dio, inviò Hypnos, cioè il sonno, e Thanatos, la morte, per portarlo via dal campo di battaglia e condurlo in Licia, dove ricevette degli onori funebri. Ad assicurarsi che il trasporto avvenisse nel migliore dei modi, la figura di Hermes, che vedete capiggiare sul dipinto. Il messaggero degli dèi, con tanto di copricapo caratteristico, è il cauduceo. La maifria di Eufronio fu proprio nella resa anatomica e nelle pose dei personaggi. La morte di Sarpedonte era un tema ricorrente, che ritroviamo anche in altri vasi e anche in un'anfora attica a figure nere questa volta, per esempio, sempre di provenienza italica, ma esposta al Museo dell'Uvra. Ed eccoci a prodare al mistero di questo vaso. Nessuno avrebbe mai messo in dubbio la sua autenticità o contestarla, almeno fino a una manciata di giorni fa, quando arriva dal Vaticano la notizia della morte di Monsignor Michele Basso, un furioso appassionato di storia antica, che nel tempo collezionò tante opere d'arte, ma di dubbia provenienza, così tante da essere racchiuse in una cinquantina di casse ignifughe e sigillate. Poi, in seconda analisi, riconteggiate, misteriosamente le casse diventano trenta. Lasciamo stare. Piccoli dettagli. Tali casse, trenta o cinquanta, appunto, sigillate con l'autorizzazione della Segreteria di Stato Vaticano e sistemate in un locale sicuro, contengono materiale archeologico, statua in marmo, di legno, dipinti, tavole incise sul rame e schizzi su carta. E udite, udite, in mezzo a tutte queste belle cose, il cratere di Eufronio. Ma come? Il cratere di Eufronio è esposto al Museo Nazionale di Cerveteri? Non quello custodito dal Museo di Cerveteri, un altro. Ma in questo caso, molto probabilmente, l'originale, quello vero. Visto che il Monsignor Michele Basso lo custodiva da molti anni prima del 1971, come riportato in testi scritti nei diari, anno in cui fu presumibilmente rinvenuto il pezzo, invece custodito a Cerveteri. Nei primi anni del 2000, questo Monsignor Basso era già stato al centro di un'inchiesta della Procura di Roma, un'inchiesta poi archiviata, incentrata proprio sulla provenienza sospetta di alcune delle opere della collezione. Il vaso custodito a Cerveteri, quindi, sarebbe un falso e l'originale custodito in Vaticano. Se anche questo vaso di Eufronio dovesse rientrare un giorno sul territorio italiano, lo immagino esposto accanto all'altro, nel Museo di Cerveteri, a dimostrazione che i falsari sono talmente bravi che riescono ad ingannare generazioni di esperti.